Buonanotte, non vi ho abbandonato, ritorniamo con le analisi Lightroom dei file RAW. Vi ricordo che questo è l'unico canale che vi propone confronto dei file RAW e analisi su Lightroom di tutti i super tappi gamma. L'unico canale che non vi dice che l'iPhone è il più meglio a prescindere così a caso senza nessuna ragione e l'unico canale che non vi fa poi i confronti in JPEG alle foto della vacanza o dei piatti di pasta. Andiamo a vederci recuperi, andiamo a vederci la qualità delle texture, andiamo a vederci come lavorano effettivamente questi smartphone e oggi perla rarissima grazie a Nando75, mitico punto di riferimento su Roma ma anche su tutto il territorio nazionale per il ritiro e la rivendita di smartphone usati in condizioni veramente allucinanti ma soprattutto anche per le rare come questo Oppo Find X6 Pro, come il Vivo X90 Pro Plus che avete visto in inizio anno come tante tante cose. Grazie a lui riuscirò a fare la benedetta riprova del Samsung S23 Ultra grazie tra l'altro era di un follower di questa pagina, questo Samsung, grazie ad Antonino dalla Sicilia e arriva anche Pixel 8 Pro. Inizio subito con il dato di fatto più potente che porta con sé questo Oppo Find X6 Pro che è sul mercato lo smartphone con i sensori più impressionanti in assoluto non solo il sensore da un pollice che abbiamo sui super top di gamma più interessanti di quest'anno ma anche sul teleobiettivo che è un 65 mm di focale secondo me molto interessante e sull'ultra grande angolare abbiamo dei sensori che sono quasi da un pollice quindi di fatto su carta qui c'è il potenziale quantomeno di ottenere dei file assolutamente fuori parametro rispetto alla concorrenza che su queste focali propone dei sensori che si avvicinano più a un terzo di pollice che non a un pollice. Un paio di scatti ne andiamo a confrontare anche col 13 Ultra che per me ad oggi è ancora il punto di riferimento quindi cerco di portarlo sempre in un mini confronto anche in questo video che in teoria è dedicato soltanto a lui. Cose che mi piacciono, che mi sono piaciute innanzitutto una roba che secondo me ormai è fondamentale ovvero doppio clic del tasto volume e accediamo subito alla fotocamera fondamentale specialmente in street, doppio clic e siamo subito pronti. Cosa che mi piace particolarmente è che quando vado a regolare uno dei parametri se velocemente devo andare a tutta chiusura non mi va poi in automatico o su automatico appunto quindi il tasto per il passaggio in automatico del relativo parametro è un tasto a parte. Ovviamente per la nostra sessione di shooting lasceremo tutto in automatico abbiamo a disposizione tre sensoroni giganteschi che vi dicevo che scattano in JPEG a 50 megapixel ma in RAW a 12 e abbiamo due formati un po' come su Xiaomi 13 Ultra, un po' come su VWX 90 Pro Plus anche qui c'è un formato RAW e poi un formato che qui si chiama RAW Plus e che sostanzialmente va a fare la stessa cosa che fanno gli altri ovvero sommare più RAW per avere più informazioni e un file quindi più lavorabile. Vi dico subito, effetto collaterale, lo scatto in RAW Plus è lentissimo ragazzi è il più lento in assoluto se lo paragoniamo diciamo ai diretti concorrenti di questo smartphone in RAW la situazione migliora parecchio e diventa accettabile in linea con gli altri RAW quindi tendenzialmente scatterò molto in RAW, qualche RAW Plus ce lo portiamo a casa per vedere cosa succede. Altra cosa che mi piace molto, posso selezionare una focale sulla camera principale un po' più stretta da avere direttamente quando apro l'app cioè se io voglio scattare in 35 lo seleziono qui dal menu ogni volta che aprirò la fotocamera lui sarà in appunto 35 mm e non in 23 mm ovviamente effettuando un crop. Di tutte le altre impostazioni ce ne freghiamo altamente e andiamo a farci i nostri scatti in RAW. Alla prossima La cosa che non mi fa impazzire è che anche in modalità Pro mi propone troppe ottiche ragazzi qua e lui mi propone anche le ottiche fake tra virgolette quindi la 2x e la 6x che sarebbero la 1 e la 3 croppate in modalità Pro però non me l'aspetto mi aspetto di poter usare di avere intanto come funzione rapida solo le tre ottiche reali. Bene ragazzi eccoci rientrati in studio ho qui con me l'oppo andiamoci a vedere subito i file su Lightroom sia singoli che poi qualche piccolo confrontino appunto col 13 Ultra uscirà fuori mi ha fatto un'ottima impressione devo dire durante la fase di scatto veramente ottima ma nonostante ciò io vi invito sempre vi ricordo ne approfitto non giudicate gli scatti dallo schermo dello smartphone non fatelo perché sarebbe un grossissimo errore sia per i JPEG ma va bene ma soprattutto per i RAW ma non perché sullo schermo dello smartphone potrebbero sembrarvi più belli ma anzi il contrario perché in galleria potrebbe apparirvi un disastro magari andando a analizzare a vedere un po' nel dettaglio lo scatto mentre poi quando lo buttate su Lightroom lì capite veramente che tipo di file vi trovate di fronte in galleria potrebbero esserci problemi proprio di lettura di interpretazione del file RAW perché è un file un po' complicato da gestire per qualsiasi software buttatelo su un software professionale e lì fate la vostra analisi voglio partire dalla fine perché ormai siamo alla fine dell'anno abbiamo visto che quest'anno secondo me la grossa evoluzione c'è stata nei teleobiettivi più che sui sensori principali e sulle denti principali sui teleobiettivi alcuni modelli hanno avuto uno stacco pazzesco secondo me da tutta la concorrenza e abbiamo visto ad esempio come il teleobiettivo di iPhone e anche purtroppo iPhone 15 Pro Max con la sua 3x che è rimasta sostanzialmente identica a quella del 14 si è invecchiato tantissimo rispetto a quei super top che hanno puntato sull'evoluzione di alcune focali abbastanza spinte come i vivo, come gli Xiaomi e come sulla carta questo Oppo quindi io voglio partire proprio dal teleobiettivo perché è lì che si gioca un po' la partita e parto con questa immagine che è stata una delle ultime che ho fatto a sinistra abbiamo Xiaomi 13 Ultra a destra Oppo Find X6 Pro vediamo subito a livello di colori una gestione diversa del punto di partenza e della colorimetria che ci offre ci offre dei colori un po' più, chiamiamoli naturali chiamiamoli un po' meno saturi chiamiamoli come ci pare comunque nella resa complessiva diciamo è un'immagine che preferisco questa è stata scattata in Super Raw e in Raw Plus per quanto riguarda l'Oppo andiamo a vedere il dettaglio perché qui abbiamo il 75 mm su un sensore che è 1 su 0.256 ma con un diaframma di f1.8 qui abbiamo un 65 mm su un sensore di 1 su 1.56 quindi abbastanza più grande ma con un diaframma di f2.6 quindi ad esempio lo sfocato nel rapporto sensore-diaframma grosso modo è equivalente è ancora un po' più marcato sullo Xiaomi rispetto all'Oppo ma ragazzi ci siamo questo è il primo smartphone che già sul teleobiettivo mi dà quell'impatto di isolamento del soggetto su una distanza come questa che regge il confronto col 13 Ultra che per adesso gioca proprio in un'altra categoria rispetto a tutti gli altri e quindi ci siamo ma sarà meglio avere un diaframma più spinto o un sensore più grande? cerchiamo di capirlo vediamo il dettaglio ad esempio sui capelli di questo signore che rappresentano una texture abbastanza complessa da gestire intanto notiamo che è altissimo da entrambe le parti siamo veramente ai vertici e forse leggermente migliore sull'Oppo e questo è anche un po' inevitabile perché comunque una superficie più grande su cui si distribuiscono i pixel porta a questo parliamo di una differenza veramente impercettibile ci vedremo anche nel video dedicato sullo stesso scatto Samsung che cosa ha combinato sta qui e se volete saperlo esce un altro video andatevelo a cercare penso sia già uscito vediamo tirando fuori le ombre esagerando su entrambi questa è la texture che propone Xiaomi e questa è quella che propone Oppo siamo lì siamo veramente lì il diaframma compensa un po' di pulizia d'immagine probabilmente non lo so bisognerebbe vederlo in altre condizioni in realtà ma più che altro ecco anche a livello di aberrazioni vedo qui sulla spalla un po' di aberrazioni su entrambi e mi sembra che il risultato sia veramente ottimo ragazzi siamo davanti a una bellissima lente finalmente qualcosa che intacca un pochettino il primato del 13 Ultra ora riandiamo all'inizio questo scatto è totalmente sbagliato ma ve lo voglio proporre perché questo signore passava quasi sotto camera camminava a passo abbastanza svelto e lui è riuscito l'Oppo comunque a un po' congelare l'attimo e andando a tirare fuori lo scatto sempre in maniera ragazzi grossolana guardate qui che qualità su un soggetto in movimento sotto macchina chiaramente riesce a congelare bene l'attimo con il suo teleobiettivo e soprattutto a beccare il fuoco di un soggetto che era molto sotto tono non è iper iper nitido come se fosse fermo davanti alla camera ma scatto assolutamente accettabile vediamo anche qui bellissimo bellissimo buonissimo sfocato per quanto riguarda i teleobiettivi su smartphone e quindi ribadisco che capitolo dell'obiettivo ragazzi questo smartphone è tra le migliori cose che possiate comprare mi sembra già abbastanza evidente vediamoce ne un ultimo magari o forse questa situazione vagamente simile buonissima tra l'altro lettura dello scenario ricordo ancora soggetti in ombra sfondo con dei tagli di luce molto forti erano le 3 del pomeriggio quindi insomma e questo è quello che tira fuori sono scatti secondo me abbastanza pazzeschi veramente una bellissima lettura vi ricordo sempre tutti i parametri io li lascio in automatico per vedere proprio come lui esegue la lettura dei vari scenari qua soggetto un po' più statico si vede è più nitido ma ci rende bene l'idea di un'ottima gamma dinamica che abbiamo su questo sensore e soprattutto ribadisco dello sfocato molto molto presente ne approfitto che andiamo verso la chiusura del capitolo dell'obiettivo non so se è una questione legata ad Hasselblad dal fatto che non lo so è una loro caratteristica o se è semplicemente un difetto ma hanno tutte e tre un flare una gestione dei flare molto particolare il tiro obiettivo ad esempio fa queste strisce blu l'ultra grande angolare fa questi anelli verdi chiaramente parliamo di flare esagerati di sole diretto in macchina la principale fa questa sorta di arco verde valutate voi se vi può piacere o la cosa o se può essere soltanto che un fastidio vi metto sempre lo Xiaomi a sinistra e l'oppo a destra vediamo una tinta un po' più rossastra dello Xiaomi questo è uno scatto in raw non in ultra raw o super raw o raw plus insomma è un classico raw per entrambi si conferma quello che abbiamo visto col primo scatto lo sfocato nonostante tutto è ancora un po' più marcato sullo Xiaomi nonostante il sensore più piccolino viene tutto compensato da questo diaframma molto spinto f1.8 e ci siamo la cosa che mi ha colpito in questo scatto è il dettaglio che mentre qui su questo controluce lo Xiaomi ha fatto molto molta fatica e ha un po' impastato l'immagine avviene raramente ma è successo l'oppo e qua si vedono le maggiori certezze che può dare un sensore più grande ha beccato in pieno diciamo ha elaborato benissimo il soggetto c'è una ottima nitidezza giusta diciamo che rispecchia la qualità di questa lente mentre di qua no perché sappiamo che questa lente può lavorare molto meglio di così c'è stato qualcosa che è andato storto 3 punti ecco questo abbastanza lampante di come l'oppo abbia lavorato meglio in questo caso chiudiamo per quanto riguarda il teleobiettivo con un campo medio quindi vediamo come gestisce il dettaglio su soggetti più distanti mi sembra che qui su questa scena un fortissimo contrasto abbia fatto una lettura che abbiamo già visto è veramente eccellente possiamo subito vedere come sulla gestione delle alte sicuramente abbiamo tra le mani uno smartphone che lavora benissimo a livello sicuramente dello Xiaomi e mi piace proprio la resa in generale cioè quello che vedo qui a schermo non so se su YouTube si comprende è uno scatto molto nitido sempre in quella maniera piacevole in quella maniera naturale in quella maniera che deriva da un processo reale dei componenti di una lente ben fatta di vetri belli nitidi e di un sensore che lavora bene non di un'iper nitidezza che ci va poi a spappare tranquilli ci vediamo anche le altre ottiche lente grandangolare a sinistra lo Xiaomi come sempre e a destra l'oppo allora anche sul sensore principale noto uno scatto un po' più caldo e sulle tinte verdi dell'oppo mentre un po' più freddo e tendente al rossastro sullo Xiaomi ma non che abbiano dei problemi di tinta semplicemente c'è proprio una gestione un po' diversa mi risulta sempre un po' più naturale lo scatto dello Xiaomi quindi qui Leica il famoso lavorone che hanno fatto insomma per ottenere una colorimetria davvero eccellente l'oppo ha tenuto l'esposizione leggermente più alta e secondo me ci ha azzeccato lo vediamo da qui vedete uno su 1900 per quanto riguarda i tempi mentre lo Xiaomi 2800 quindi ha un po' preservato ma diciamo il sensore può permettersi questa resa infatti se io adesso sull'oppo vado a chiudere riesco a recuperare vabbè qua c'è un colpo veramente di sole potentissimo sull'asfalto quindi recupero quello che è giusto che si recuperi e guardate anche il cielo come viene fuori senza nessun problema e allo stesso tempo avendo sovrasposto un po' in fase di scatto ho nelle ombre un po' più di dettaglio e si vede si vede che qui siamo un po' più sottotono e questo sicuramente aiuta per il resto è il medesimo sensore da un pollice c'è un'interpretazione poi diversa di come va a lavorare il software e la luce passa da delle lenti diverse quindi ovviamente un pochettino cambia ma mi sembra che siamo ad un livello molto molto simile e forse un po' più nitido l'oppo proviamo ad aprirle ovviamente casistica molto particolare ragazzi contro luce molto potente si l'oppo il dettaglio se l'è andato a gestire un po' meglio qui forse ha un po' più di aberrazioni cromatiche qui sull'asfalto no sono abbastanza simili in tutto qualità super super alta per entrambi probabilmente sono da provare un po' sul lungo periodo vedere scenario per scenario quale risulta poi nel caso della street più affidabile più affine ai vostri gusti più giusto per gli scenari che vi andate a cercare una serie di cose ma tecnicamente ecco siamo molto vicini ok vediamoci ancora la lente principale su un ultimo confronto in una situazione molto difficile fortissimo contrasto vediamo rese simili ma anche qui l'oppo tende a esporre lo stoppicino in più ok fatta rapida lavorazione per provare ad allinearli ho abbassato le luci a meno 100 su entrambi e lo Xiaomi qui non so se perché è stato più conservativo proprio a livello di esposizione non so se perché riesce a sfruttare un po' meglio il sensore in termini di gamma dinamica ma ha un recupero che ancora rimane abbastanza imbattibile guardate qui la parete è uscita completamente abbiamo tutto il dettaglio tutto il colore mentre qui forse vanno fatte altre lavorazioni ma secondo me ce la siamo un po' persa il colore di questa parete è andato anche il cielo esce fuori in maniera un po' più vivace sullo Xiaomi e sulle ombre ci siamo riusciamo a riallinearli la lente dell'oppo lavora sempre in maniera secondo me un pochettino più nitida riesce a fare addirittura meglio della lente laica forse come gamma dinamica e gestione dei recuperi Xiaomi rimane imbattibile l'abbiamo visto confrontato praticamente con chiunque un file raw che sbaraglia tutta la concorrenza ma quest'oppo non solo gli tiene testa ma seppur in maniera diciamo veramente da andare a trovare col microscopio però tira fuori quel qualcosina in più poco poco ma non male insomma io gli darei un pareggio sulla lente principale allora ultra wide qui la differenza a livello di colorimetria emerge ancora un po' di più non so perché l'oppo mi ha fatto una saturazione molto irrealistica secondo me del cielo vediamoci i recuperi cosa fa l'oppo su questo su questo ultra wide buono buono direi buono non eccelso mettiamo le ombre a meno 100 a più 100 e riduce a meno 100 e facciamo la stessa cosa sullo Xiaomi allora questi gli scatti recuperati a occhio meglio Xiaomi siamo sempre su livelli alti di oppo se la gioca il che non è poco però si anche a livello di dettaglio molto simili come sempre ribadisco le ultra wide su smartphone ancora secondo me hanno poco poco da dire interessante molto simili si sono perse persi entrambi diciamo i dettagli sui palazzi troppo forte il contrasto in questo scenario ottima gestione dei colori di Xiaomi Oppo si è persa un po' via ultima cosa che vi voglio evidenziare che adesso siamo sulla camera principale l'ultra raw dello Xiaomi 13 Ultra un pochettino è un'arma a doppio taglio e tra le varie problematiche che ha quando azzecca lo scatto va da paura ma tra le varie problematiche che ha è che spesso sovraespone un po' a casaccio qui ad esempio abbiamo il raw plus di Oppo Find X6 Pro abbiamo visto che è uno scatto molto lento è molto meno utilizzabile però ecco la lettura qui dello scenario è già perfetta l'ultra raw si io qua recupero senza problemi tutto e tiro fuori tutto quanto però ecco attenzione perché a volte fa un po' di pasticci e vi fa perdere lo scatto molto raro ma lo fa invece ho trovato il raw plus di Oppo pur lentissimo molto molto affidabile e insomma guardate anche nonostante la lentezza dello shutter lag nel catturare l'attimo però poi va a congelare benissimo il soggetto non abbiamo problemi di micromosso ecco qui poi a livello di dettaglio insomma riconfermiamo tutto colorimetria un po' diversa più calda su Oppo un po' più freddina ma naturale secondo me sullo Xiaomi e forse la lente che riesce a tirare fuori un pochettino più di dettaglio appunto sullo scatto quindi sono contento di essere riuscito a mettere le mani su questo Oppo Find X6 Pro grazie veramente a Nando 75 un peccato enorme che non sia arrivato in Europa perché siamo di fronte sicuramente a uno dei migliori tre camera phone di quest'anno degli scatti allucinanti con un sensore principale che si allinea un po' a quegli smartphone che hanno scelto di investire su un sensore da un pollice la differenza si sente e su delle lenti di qualità non so se adesso è per Hasselblad o se questo è un nome appiccicato che il lavoro ne ha fatto tutto Oppo ma i vetri ragazzi lavorano bene e questo si vede e abbiamo visto in altri video quanto è importante più importante di stupidaggine tipo la risoluzione elevatissima tipo altre cavolate hanno investito sull'hardware e l'hardware è la base fondamentale che dobbiamo guardare c'è poco da fare anche negli smartphone perché ormai il livello si è alzato proprio sciocco secondo me spendere più di mille euro per uno smartphone e accontentarsi di ama il software lavora bene e mi fa la fotina già pronta per Instagram non lo so poi sarò io che lavoro in una nicchia giustamente lo comprendo lavoro immenso anche sul teleobiettivo dove c'era il gap più grande per ora tra questo Xiaomi il vivo X90 Pro Plus e tutti gli altri la leggia con lui con una focale che trovo molto interessante e che porta sui sensori secondari delle grandezze appunto interessanti e delle lenti di qualità non ho trovato poi per quanto riguarda l'experience problemi particolari legati alla messa a fuoco legati alla lettura magari dello scenario appunto lasciando i parametri in automatico sbagliata problemi di micromosso problemi di questo tipo insomma sarà veramente interessante andare a fare video di fine anno con il confronto e capire chi mettere in prima posizione chiaramente lo svantaggio qui è che ha una lente in meno ma onestamente ne sentiamo una mancanza per lenti superiori al 65-70 mm secondo me è ancora un po' presto per andare a fare un lavoro di questo tipo per tutto questo ambito dove ricerchiamo un certo tipo di qualità che rapporta la reattività poi perché parliamo di street le lenti superiori al 70 mm ancora si sono dimostrate un po' acerbe detto ciò vi ricordo che è uscito con i medesimi scatti sessione di shooting il video su questo tizio qui samsung s23 ultra andatevelo a vedere perché ce ne saranno delle belle come sempre grazie per essere stati con me per sostenervi basta un like un seguì al canale attivare la campanella e soprattutto andatemi a cercare anche su instagram e su tiktok perché li trovate proprio soprattutto su instagram i miei lavori fotografici e anche lato video anche se lato video diciamo non lavoro con gli smartphone però qualcosina trovate potete farvi un'idea un pochettino su chi sono e possiamo condividere tante altre cosucce che qui su youtube invece non porto direi che per questo video è tutto e noi ci vediamo alla prossima ciao